Con una transce di 346 mila euro la regione completa la distribuzione di contributi a favore di numerosi comuni che sono sede di distaccamento dei pompieri tra i 21 compresi nell'elenco c'è anche Cossato dove tra l'altro al momento i vigili del fuoco sono in un alloggio temporaneo concesso in uso dal comune in attesa che venga sistemato il tetto della sede. Quest'ultima infatti ha subito gravi danni dalle grandinate del luglio scorso in particolare alla copertura tanto da rendere inagibili le camere perciò il capo del distaccamento Alessandro Corrias ha chiesto di poter utilizzare l'altro alloggio comunale nell'edificio vicino. Per ora il tetto è stato sistemato provvisoriamente per evitare che i danni si estendessero alla struttura dell'edificio ma va rifatto e i lavori costeranno almeno 50 mila euro. In base alle informazioni date dalla regione i comuni riceveranno contributi da 13 mila a 20 mila euro per finanziare attività di potenziamento della logistica, acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi, delle sedi di proprietà pubblica, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.